Start, two, one, install mission and liftoff! Ho giochicchiato un pochino, poi ho detto lo registro, è in early access ed è una sorta di... Allora, per certi aspetti mi ricorda Factorio, anche se molto più semplificato, però sembra celare un ottimo potenziale. Lo proviamo dall'inizio con l'aiuto del tutorial, ci cerchiamo di capire qualcosa. Il prezzo intero, comunque al netto degli scontri, sarà 10 euro. È sviluppato dagli stessi, credo, di Gordai, che portai proprio all'inizio alla nascita del canale. Al momento nell'accesso anticipato è giocabile fino al raggiungimento dell'obiettivo di raggiungere un milione di persone e l'obiettivo sarà quello appunto di terraformare un pianeta. Iniziamo dall'inizio. Manofars, Vudars, lo chiamiamo Vudars. Ok, vediamo il pianetino, vediamo dove abbiamo la nostra città e dove inizieremo a costruire. Delle meccaniche un po' particolari perché si agisce su esagoni. Abbiamo il mandato di amministrare le risorse del nuovo pianeta appena scoperto e portare appunto alla terraformazione del pianeta e alla crescita della città. Il pianeta ricorda tantissimo Marte ed è uguale alla mia precedente partita, anche se il punto di partenza è diverso. Ora, avremo il tutorial ad aiutarci. Qua in alto vediamo le stagioni per quanto riguarda questo pianeta. Abbiamo la possibilità di vedere le evoluzioni dei dati atmosferici, la temperatura e il trascorrere del tempo. Prima di tutto ci muoviamo con il tasto destro del mouse oppure usando il VASD. Allora, vedete che andando indietro possiamo vedere l'intero pianeta. Ok, perfetto. Il prossimo passo è andare a vedere dov'è il Lion. Possiamo usare sulla destra la possibilità di localizzare dove si trova il minerale. oppure il tasto Locate qui e ci fa vedere dov'è ed è lì. Questo qua. Ok. Ora, selezioniamo l'iron, quindi andiamo qua sotto. Qua ci sono anche altri materiali. Vedete che selezioniamo l'iron e abbiamo ora... ci focalizziamo ora su questa visuale. Abbiamo sulla sinistra tutto l'elenco delle cose che sono costruibili. In questo caso costruiamo un estrattore. Costruiamo l'estrattore qua nel bordino. Ora, il gioco ci guiderà nelle prime meccaniche. Qua vediamo tutta la planimetria, tutta la mappa del pianeta con tutti i vari giacimenti. Ora dobbiamo cliccare sull'industria, il bottone dell'industria, sulla sinistra e costruire un deposito di iron. Quindi praticamente è un po' sulla sorta di fattorio. In pratica facciamo un depot e zoomiamo un po' di più e glielo mettiamo proprio alle spalle. Quindi abbiamo un deposito di iron. Quindi il nostro scavatore scava, il darone porta l'iron direttamente lì. Ora costruiamo una factory, una fabbrica, nelle vicinanze del deposito di iron. E qua produciamo lo steel. Quindi praticamente viene scavato, trasportato qui e ridotto, e c'è trasformato l'iron in acciaio. Ora costruisci un deposito e piazzalo vicino alla factory e seleziona steel bar. Quindi praticamente qua abbiamo la produzione e qui ci mettiamo lo steel bar. Quindi praticamente abbiamo un deposito di iron, l'iron poi viene trasportato alla fabbrica, lo produce in steel bar e lo steel bar viene poi depositato in questo altro coso. Puoi costruire l'assembly plant, quindi la produzione diciamo di assemblaggio e produce... Ok, ok, possiamo... E questo che produce steel bar in produzione e qua assembla le steel bar. Ok, puoi trovare più aiuto in questo, vedete, il tuo obiettivo globale è raggiungere un milione di popolazione e terraformare il pianeta per renderlo abitabile, muovere, ok, abbiamo tutte le varie cose. Vedete che stiamo... Allora praticamente qua ci dice che l'assembly produce il componente finale, quindi praticamente mette insieme quello che viene prodotto prima dalla factory. Poi qua abbiamo le varie specifiche e le varie regole di costruzione e impareremo insomma. Il totale della popolazione abbiamo tre persone adesso, 9, 9 ne abbiamo. Possiamo avere differenti visualizzazioni riguardo all'acqua, i minerali e lo visuale di default. Possiamo piazzare strade. Vedete il gioco non è così banale, anche delle linee ferroviarie. E' davvero interessante. Quando la popolazione è alta, le città hanno bisogno di evacuare i rifiuti e quindi possiamo piazzare una discarica anche qui su Marte. E poi andremo appunto a terraformare e quindi andare a modificare fisicamente il pianeta e modificarne anche la temperatura e di conseguenza anche il progredire delle stagioni. Ora siamo in grado di produrre varie strutture. Puoi seguire l'obiettivo del livello. Costruisci 10 extractors. Infatti qua vedete, questo mi ricorda molto City Skyline. Abbiamo l'obiettivo di costruire 10 estrattori. Quindi noi piazziamo 10 estrattori. Vedete che qua ne abbiamo 5. Questa quantità viene determinata in base ai materiali che produciamo. Quindi in questo caso noi costruiamo gli estrattori che siano a contatto con quello. Credo che vada bene anche per quello, insomma, che siano tutti connessi. Vedete che adesso non abbiamo niente. Quindi dobbiamo... Vedete che lo produce lì e viene trasportato poi direttamente là. O viene prodotto là, viene trasportato là e il drone fa praticamente tutto il lavoro. Qua c'è qualcosa che deve essere trasportato. Vedete che è lì. Ma purtroppo non lo porta nessuno perché avrò bisogno di un altro depot che piazzerò qui con l'iron. E vedete che infatti il drone relativo si mette a lavorare. Dovrò mettere anche un depot qui, probabilmente. Sempre di iron. Sì. Ok, e qua però non ho niente di comunicante. Quindi cerchiamo di capirci qualcosa. Ok, mettiamo iron anche qui. Infatti vedete che iniziano a lavorare. Ok. Poi può piacere o meno sta cosa però... Ok, dobbiamo continuare con la produzione delle nostre... Acceleriamo un pochino il tempo così almeno ne abbiamo fatte sette. Ce ne mancano tre. Vedete che intanto qui stiamo andando alla grandissima. Possiamo farne un altro. Lo mettiamo qui. Allora, io questa la sto prendendo come mia iniziativa, quella di fare tutti questi depositi. Perché mi avevo già bloccato, diciamo, prima. Uno e due. Ok, abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Ora non possiamo neanche più fare questo. Vabbè, obiettivo costruisce cinque factory e piazzale on the ground. Ok, quindi non possiamo produrre neanche questo perché ci servono le steel bar generiche. Quindi dobbiamo aspettare che le produca. Però intanto possiamo fare un'altra factory. La mettiamo qui. Ok. E produce esattamente come l'altra. Ok. Ne piazziamo un'altra di qua. Dovevo farne cinque quindi... Perfetto. Però vedete che qua non produce niente. Quindi dovrò metterne un'altra di queste direttamente lì. Vabbè, intanto stanno tutte producendo. Tranne questa perché ovviamente non ha il rifornimento. Ci servono steel bar per tre. Cosa che non abbiamo, dobbiamo fare. Eh, mannaggia me. Eh, dobbiamo... Intanto vediamo un attimo la città come sta andando. Ci sono population tre. Ma in realtà... Eh sì, perché gli altri sono qua a lavorare, immagino. Dobbiamo amministrare anche queste cose. Eh... Assembly plant. Allora... Ok, no, qua... Ok, praticamente no, ho scoperto un'altra roba. Sfermi tutti. Eh... Non è che le steel bar vengono poi assemblate qua. Qua assembliamo degli edifici. Quindi qua possiamo dirgli di produrre dei depot usando le steel bar. Ok, perfetto. Allora, capito il mistero. Allora, intanto vediamo se ci vuole un'altra. Ci produce dei depot. Depot? Come si pronunciano? Ok, dovrebbe farlo adesso. Ok, lo mettiamo qui. E qua ci mettiamo ancora un iron. Così mettiamo in produzione anche questa fabbrica qua. Eh... Ora non voglio fare i depot, ma voglio fare le factory. Quindi diventa cervellotico dopo come cosa. Può piacere, può non piacere. Però secondo me il gioco viene molto più profondo andando avanti. Ok, completiamo questo obiettivo qui, producendo queste factory che ci mancano. Continueremo la produzione qua. In modo da... Me le produci le factory? Ti mancano le mechanical parts. Ma perdonami, ma il depot ti servono le steel bar. E le mechanical parts invece le produci qui, vero? No, le produci qui. Ah, mannaggia! Mannaggia, fermi tutti, fermi tutti, fermi tutti. Qua mi dovete produrre mechanical parts. E metti un altro deposito qui. Di mechanical parts. Ok, così almeno... Stanno riconvogliando tutto quello che hanno prodotto per fare le mechanical parts. E mandarle là. Mannaggia, è tosta come cosa, perché... È tosta, sì. Mannaggia. Ne metto una qua. E non saprei neanche cosa produrre. Se mechanical parts anche lui, ma... Invece qui non abbiamo scelta, perché c'è l'iron e basta. Poi l'iron finisce perché c'è una quantità di materiali lì. Quindi bisognerà... Che tecnicamente ogni anno scende di 15. Quindi bisogna... Sì, sono già 5 anni di produzione, quindi... Allora, vediamo un po'. Ce ne manca una ancora. Metto in pausa. Produco la quinta. La metto qui. Per effetto. Mechanical parts anche tu. Vediamo. E dobbiamo distribuire un pochino le cose. Comunque, obiettivo. Raggiungere un popolazione di 10 nella tua città più grande. Costruisci il supply center. Ok, si è sbloccato tutto il resto. Allora, abbiamo l'industria avanzata. Ci serve il concreto e il cemento. E qua possiamo costruire invece le strade. Per i trucks. Quindi per i... Ci serve il concreto. Per i nostri trasporti. Insomma, l'asfalto. E qua abbiamo road stop dove ci fermiamo per scaricare e caricare le cose. Interessante come cosa. Allora, adesso cerchiamo di organizzare la cosa. Allora, qua abbiamo un deposito di mechanical parts. Qua ci mettiamo un altro deposito. Allora, dobbiamo fargli produrre però. Un depo... Un depo... E soprattutto, come si produce il concreto? Con il sulfur. Sulfur. Ok. Quindi. Appena abbiamo prodotto uno di questi. Un depot. Ok, stop. Lo mettiamo qui. E cerchiamo di metterci d'accordo e di fare chiarezza col cervello. Questo produce mechanical parts, mechanical parts, steel bars, steel bars, mechanical parts. No, facciamo steel bar anche qua. Quindi, le steel bar le mettiamo qui. Questo, invece, steel bar, ok. E queste due qui, mechanical parts, che le buttano qua. Qua mechanical parts, qua steel bar, steel bar, ok. E vanno qua. Questo produce una cosa e questo ne produce un'altra. Perfetto. Allora abbiamo lo zolfo, credo sia questo. Quindi iniziamo già un progetto di scavo di sticosi qui. Quindi mettiamo... Eh, vabbè, continuate a produrlo intanto il depot. Come si chiama? Che qua dovremmo essere già... Non c'è gestione elettronica, c'è energetica, quindi produciamo un po' di depot intanto. Allora, qua scavano zolfo. Ci piazziamo un depot qui. E sulfur ci mettiamo. Il concrete viene prodotto con... Scusatemi, eh... Fatemi vedere l'assembly plant. Cosa può fare? Steel bar e concrete. Ah, ok. Sì, 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 giustamente. Questo invece cos'è? Ghiaccio? Alluminio, alluminio. Ok. Quindi, facciamo la factory. La mettiamo qui. Così la facciamo comunicare. Fai concrete. E qua mi metti un altro deposito di sulfur. Quindi, ok, questi due qui producono. Scavano, mandano lì. Questo produce sulfur. Il sulfur viene depositato... Mannaggia, qua dobbiamo... Sulf... No, no, sulfur... Concrete. E il concrete poi viene assemblato... Vabbè, intanto facciamo rimettare il sulfur. Il concrete, scusate. Vediamo se funziona. Sì, il concrete ce l'abbiamo. E poi gli mettiamo un assembly dall'altra parte. Assembly plan, lo mettiamo qui. E mi fa la factory. Così scopriamo anche che cosa fa la factory. Mechanical... Ah, mi chiede anche le mechanical parts. La factory me la fa con le mechanical parts. No, scusate. Allora... La strada e il camion. Con le mechanical parts me la fa... Che spettacolo! Bisogna mandarlo a velocità bassa. E capire... Allora, fammi la factory di là. Dato che ti servono le mechanical parts, fammi la factory. Poi, la factory... Non so manco cosa serve, però... Supply cities with resources. Ah, ok, 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 ok. Quindi tu mi fai la factory. La... 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 No, ma non è la factory. È la supply center. Continua a chiamarla factory, ma è la supply center. Va bene. Allora, la supply center me la fai con le parti meccaniche... Che abbiamo. Perfetto. Qua mi sta già accumulando un po' di strade. Fammi... Magari... Un depo... Qui. In cui ci mettiamo strade. Non ce le possiamo mettere le strade. Perché vengono costruite in automatico. Ok, ok. Non c'è deposito per quelle. Perfetto. Fai un po' di strade. Dai che poi facciamo comunicare tutto alla città. Quello lascialo lì, dov'è. Accumulami. Bellissimo perché fa salire direttamente le risorse. Fammi anche un po' di stop, eh. Mi raccomando, dopo. Va bene. Allora, intanto... Il supply center... Cavoli, siamo lontanucci però dalla città. Ci serviranno un botto di blocchi di strada per farlo. Intanto... Factory... La factory... Sì, mi sta producendo le factory. Sono un cognone supply center. E per quello che continuano a sbagliare. Infatti i factory ne posso mettere 8 adesso. No, dai, fammi quella. Sto incasinando le cose. Non me lo fa perché mi chiede il... È vero. Sono un cognone. Lo devo fare da qua. Allora era giusto prima. Supply center, dai, fammi un po' di quello. Così vediamo come funziona. Adesso... Ok, abbiamo la supply center che piazziamo qui. Non so cosa faccia questo. Va bene, abbiamo fatto questo. Iniziamo a piazzare la strada. Ah, carina, come cosa? Iniziamo a mettere la strada. Eh... Eh... Eh, piacerebbe... Mettila lì. Vai avanti. Veloce. Produci meno altre. Eh... Road. E poi fammi chiede gli stop però perché se no... Allora, mandiamo avanti un po' veloce il tempo. Intanto di qua non stiamo producendo niente. Eh... Concritta mi serve. Eh, devo trovare il modo di... Dovrei prima che comunica con la città. Dovrei far comunicare questi due qui. Con i camion. Per fargli portare un po' di concritta direttamente anche di qua. Però intanto vediamo se l'impresa non è eccessivamente titanica. Quella di portare tutto in città. Abbiamo fatto una buona... Buona parte di strada. Quindi possiamo... Uri 28, dai. Andiamo avanti. Allora. Da qui. Vai su. Ok. Continua, continua. Altri 8. Eh, dai. Siamo quasi arrivati. Quasi una parola grossa. Però ne stiamo producendo abbastanza, dai. Che poi va schivando. Non so bene quali ostacoli, ma... Ormai siamo giunti in città. Ne mancano ancora una trentina, forse. Sì, aspettando. Pian piano. Ne produciamo sempre di più. Non so se servirà lo stop, ma penso di sì. Quindi. 8. Così. Ok. Adesso. Fai ancora qualche stradina. Però poi devi farmi il... Farmi lo stop. La road stop. Che ne mettiamo due. Appena me ne fa due. Piazziamo subito. Uno. Qui. Ok. E ne piazziamo un altro. Uno. Due. Qua. Perfetto. Adesso. Adesso. Producimi il... Boyamond. Che pirla che sono. Vabbè. Lo ripiazzo qua. Non è successo niente. Allora, facciamo. 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 Vediamo se mi puoi produrre il camion. Mechanical parts? No, ma lo dovevano produrre da qua. Quindi camion. Track. Cioè track nel senso di camion. Una. E due. Va bene. E il resto io non saprei cosa farti produrre. Quindi, vabbè. Rimane lì. Allora, abbiamo i camion. Origin. Set. Dovrò mettergli un magazzino qui, presumo. I camion, io non ho idea di come si inseriscano all'interno delle strade. Però, intanto, noi dice di aumentare la popolazione, ma io onestamente non saprei cosa trasportare da una zona all'altra. Quindi, facciamo così. Facciamo così. Facciamo una prova. Lo rimetto a produrre strade. Nel frattempo, io faccio una cosa di questo tipo. Io costruisco un extractor qui. Che deposita qui. E butta il sulfur. Poi, ci piazzo una factory. Qui. Che produce il concrete. Ci piazzo un deposito di concrete qui. Dopodiché, piazzo un camion qui. Con una strada che va di là. Ok. E vediamo se la logica funziona. Fammi uno scarico qui. Ok. Questo produce solo... Ok. Origin destination. Ok. Track start stop. Origin. Create line vehicle. Destination. Questa. E mi porti il concrete. Destination. Lì. Change. Change line destination. Qui. Ah, funziona. Eccolo lì. Ok. La linea funziona. Quindi abbiamo i camion che praticamente trasportano. Vediamo se è bellina l'animazione. Caricano il concrete e lo portano là. Quindi possiamo produrre le cose direttamente qua. Perfetto. Invece qui... Lo portano lì e lo impiegano, presumo, perché... Vediamo. Sì, lo portano lì, ma poi lo buttano dentro qua che sta producendo strade, sta strada. Va bene. Allora, vediamo un attimo. Voi intanto producete una cosa. Qui ci mettiamo... Non saprei neanche che cosa fargli fare per la città. Facciamo del concrete. Questa produzione qui la finiamo. La spegniamo. Non so adesso neanche se si possa spegnere, però... Lo metto a produrre cose che non servono. Quindi praticamente... Mettiamo un deposito qua. Ci mettiamo del concrete. Il concrete... Adesso faccio una cosa che non bisognerebbe fare. È una cosa. Qua producimi ancora dei... Non delle strade, ma dei put. Così iniziano a usare altri depositi. Allora, faccio un depot anche qui. Vedete che li hanno un po' spostati, volta per volta. Appena me ne fanno uno, lo impiego immediatamente. Sì, l'hanno fatto. Uno, due. Bene, gliene faccio produrre un po'. Allora, qui abbiamo concrete. Quindi il concrete va qui. Qui settiamo destination. Allora, set origin. Beh, l'horizonte. Vabbè. Allora. L'origin... Set. Set origin. Set questo. No, destin... Origin. No, 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 no. Questo. Destination... Concrete. Ok. Destination... Origin. Aspetta, fatemi... Ah, inversa. Ok, no, inversa, inversa. Ok. Numero di track, uno. quindi tecnicamente loro portano la merce in città credo eccolo lì il camion vediamo come va beh anche un pelo più veloce vediamo se lo scarica o meno probabilmente no abbiamo bisogno di questo concrete ok e non serve effettivamente a molto dato che dice che dobbiamo raggiungere una popolazione più alta in città ma in città onestamente non so che altro possiamo fare che cosa dobbiamo fornire alla città però intanto abbiamo delle basi probabilmente la fluorite probabilmente sì abbiamo visto plan b e terraform davvero molto carino giocato un po così però insomma abbiamo scoperto anche delle meccaniche che all'inizio non avevo capito benissimo è intuitivo secondo me questa meccanica un po delle degli esagoni può incasinare vedersi questo quindi bisogna proprio organizzarsi bene in anticipo quindi fa girare bene le celluline grigie nella testa quindi ben venga fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate il prezzo è accessibilissimo è un early access quindi ci sta non è in italiano non ce n'è bisogno fatemi sapere nei commenti come al solito alla prossima e ciao ciao